buongiorno ragazze oggi carb cycling o cycling insomma faccio vedere la mia dieta di cui ho parlato sul mio secondo canale cosa mangio un sacco di roba iniziamo subito con un pancake preparato la sera precedente sono due pancake giganti e un po di yogurt magro perché la quota proteica già c'è con l'albume quindi non metto il greco e marmellata senza zuccheri uso questo al mercato un po di grassi buoni buoni o non buoni io ci metto il cioccolato perché mi piace così esti cavoli vado a coprire tipo panino guardate che cade tutto zack 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 mi sembra il il gelato cookie non ha con cioccolato no vabbè ecco la mia meravigliosa colazione un super pancake con due pancake e tanta cioccolata è una bella tisana ai frutti rossi e tè verde buon appetito e buona colazione oggi si mangia un casino puntino con due fette di pancare integrale tostato e fesa di tacchino e un po di frutta secca mandorle e noci questo è lo spuntino di metà mattina evviva farò colazione spuntino pranzo merenda cena posto cena sei pasti in questa carb cycling alias sfondamento oggi per pranzo mangiamo pasta questi sono dei sedanini speciali di lenticchie che trovai al suo mercato con un sugo fatto tutto insieme con pasta di pomodoro piselli e cipolla poi sopra ci ho messo il basilico e tata un uovo in camicia con sale e pepe ormai ho imparato benissimo a me ha bottonato la camicia è buonissimo raga adesso lo apriamo e sgorga tutto il tuorlo food porn poi mettiamo il parmigiano e un po' d'olio d'oliva e poi qua ci sono noccioline varie buon appetito ma mia buon appetito amore buon appetito che meraviglia ho fatto anche un secondo piatto wow incredibile con un po' di tofu questo è vegan tofu che non lo mangio mai ma ogni tanto mi viene la voglia e alla piastra con spezie e pangrattato e peperoni sempre bruciati brutto ma buono sembrano tipo i bastoncini è tofu sai cos'è il tofu si è cos'è e dopo questa vi salutiamo ciao merenda super oggi con albumi in padella tipo frittatina così semplice e sopra decorato con yogurt magro burro d'arachidi e un po' di cereali al cacao madonna adoro un po' di frutta troppo invitante vero per cena mangiamo un fantastico tortino di pasta con melanzane adesso dobbiamo capovolgerlo nel piatto vediamo se ci riesco ecco qua ragazze il nostro fantastico tortino questo lo abbiamo assolutamente chiedere a paghito di fare il video perché l'ha preparato lui ci sono tutte le melanzane e poi all'interno c'è la pasta cioè guardate c'è troppo invitante vero amore madonna vabbè buon appetito cioè dentro c'è tutta pasta guardate mmmm vabbè epico tortino impasta mmmm fammi vedere mamma mia buon appetito buon appetito poi dopo mangiamo un po' di merluzzo con l'insalata ci vuole